carissimi amici e amiche bentornati nuova puntata questa dovrebbe essere la settima credo del ciclo di catechesi no l'ottava l'ottava puntata del ciclo di catechesi dedicato a tenera ma d'altronde abbastanza facile capire sotto gli occhi il capitolo 8 quindi è chiaro che l'ottava puntata continuiamo il nostro splendido almeno a mio parere viaggio in questo mondo davvero splendido oltre che in larga parte inedito e già preannuncio che questa sera ci saranno nuove strabilianti sorprese per cui non esagererei troppo nelle introduzioni per passare quanto prima alla lettura di questa appunto ottavo capitolo soltanto ricordando che la volta scorsa ci siamo ci siamo lasciati approfondendo un po la modalità di comunicazione che hanno adoperato che stavano adoperando questi due personaggi uno celeste e uno terreno c'era una comunicazione al modo celeste però adattata al fatto che il destinatario di quella comunicazione era un mortale e quindi una comunicazione senza parole quindi senza l'ausilio della parola esterna quindi attraverso la comunicazione del pensiero così come avviene tra i beati ma utilizzando il modo con cui si può fare questa operazione in questa terra che è poi lo stesso che usa dio in persona e anche purtroppo il nemico di dio per suggestionarci al male il secondo per ispirarci al bene il primo quindi componendo i nostri pensieri le nostre idee dentro certi concetti che poi vengono presentati alla nostra attenzione per questo come accennavo i grandi maestri di spirito i grandi maestri del discernimento degli spiriti dicevano che quando ci viene un pensiero dobbiamo chiedergli la carta d'identità però dobbiamo dobbiamo soprattutto imparare a riconoscerla perché i pensieri non ce la danno la carta d'identità ma è un modo di ironico per dire che ogni pensiero può avere una triplice sorgente dio io o il diavolo imparare a raccapezzarsi in questo ambito è molto importante per la nostra vita però evidentemente è argomento che esula da quello di cui stiamo parlando ci ho fatto un ciclo di catechesi che dovrebbe stare ancora da qualche parte in giro sul discernimento degli spiriti e per cui chi volesse approfondire questo tema può andarlo a ricercare che da qualche parte dovrebbe stare ancora in giro e passiamo al capitolo 8 di oggi comincio subito la lettura lui ci eravamo lasciati leggo l'ultimo capoverso tanto per rileggo l'ultimo capoverso tanto per agganciarsi in modo tale che possiamo cogliere il senso della frase da cui ricomincia il dialogo tenera amata riccardo concludeva dicendo anzi pensando quindi scrivendo questo no era ammirabile la conversazione con la mia amica glorificata perché nonostante si svolgesse mille milionesimi di pico secondo tenera amata mi lasciava pensare a pensare con calma e guidava le mie riflessioni con tutta opportunità se sapessimo dialogare così noi mortali sulla terra e qui entriamo nell'ottavo capitolo non ti pare magnifica la providenza di dio nei doni e negli aiuti ai suoi amati figli umani mi chiese tenera amata con quelle sue due fossette alle guance che già in anticipo mi tenevano convinto la verità è che non sospettavo tutto questo risponde riccardo riprende tenera amata l'azione soprannaturale del nostro dio per i mortali è quasi sempre inaspettata alcuni la chiamano sorpresa caso destino ma in realtà queste espressioni sono i nomi laici della divina provvidenza perché chiami soprannaturale quest'azione divina perché è una cosa molto al di sopra di quello che il mortale ordinariamente conosce si tratta di una mozione superiore a ciò che per il viatore naturale comune è normale il che non significa che sia che il soprannaturale sia raro anzi è molto frequente tra i veri cristiani prima piccola pausa quello che comunemente si chiama sorpresa caso destino ci dice tenera amata in realtà sono operazioni della divina provvidenza che è sempre molto attiva e intraprendente nei riguardi di noi suoi amatissimi figli non ti pare magnifica la provvidenza di dio nei doni e negli aiuti ai suoi amati figli umani e a questo dobbiamo imparare a farci molto attenti e non essere sciocchi ricordando che il soprannaturale non è raro a detta di questa abitante del cielo ma molto frequente tra i veri cristiani quindi quando una persona vive un rapporto sincero profondo intimo con il signore non deve affatto stupirsi di piccoli o anche medi o anche addirittura in qualche caso grandi fenomeni soprannaturali che dovessero accadere che sono normalissimi non c'è niente di strano né pensare se gli è accaduto una cosa del genere che sia chissà quale grande privilegiato o quale grande mistico o quale grande santo tutto normale mi pare che il nostro dio che ci ama così tanto non ci fa qualche carezza non ci fa qualche regalo non ci fa qualche dono certo che ce lo fa è solo mettersi in condizione di poterlo ricevere e poi saperlo riconoscere infatti Riccardo prosegue dicendo eh ma non si vede che questo soprannaturale sia molto frequente tra i cristiani sei tu che la respingi a priori a priori la giudichi impossibile e il signore dice ansiosamente ma si fa pregare causa di ciò è lo spaventoso peccato del mondo il disprezzo l'indifferenza la dimenticanza che esiste un dio onnipotente che ci ama attenzione al termine appassionatamente se io potessi cooperare a fare che tu e l'altissimo vi deste la mano se io potessi intervenire affinché tu e lui vi stringeste in un ineffabile abbraccio di amore di carità mi sentirei la più fortunata tra le piccole beate attenzione ai termini chi conosce qui per esempio gli scritti di Luisa Piccarrete in particolare le ore della passione non farà difficoltà a rinvedere una identità del termine qui vediamo se riesco a andarla a trovare qui Teneramata ci dice che il nostro dio ci ama appassionatamente quindi non è come dire un amore freddo etereo platonico no no ci ama appassionatamente e attenzione vado a cercare al volo che tanto lo trovo subito basta scrivere appassion no ho sbagliato il book ecco le ore della passione guardate siamo alla sesta ora e Luisa mentre contempla Gesù che soffre a causa delle anime che si abbandonano anziché farsi attenti a lui stiamo nell'ora dell'abbandono da parte degli apostoli dice quanto ti compatisco o amante appassionato lo chiama così amante appassionato c'è questo scarto tra tra questo dio che ci ama così tanto e l'orrore dice lo spaventoso peccato cioè disprezzo indifferenza dimenticanza ricordiamo le rivelazioni che Gesù fece a Santa Margherita Maria la Coccola le drammatiche rivelazioni del Sacro Cuore ecco il cuore che ha tanto amato il mondo e non riceve in cambio che appunto ingratitudine indifferenza disprezzo e perfino sacrilegio su sacrilegio nel sacramento dove questo amore appassionato è depositato e disponibile per tutti che è la Santa Eucharistia e se mi posso permettere questi atteggiamenti esecrabili terrificanti sono proprio cioè proprio di disprezzo di a volte dimenticanza sono proprio nei confronti dell'Eucharistia oggi si fanno troppe comunioni e lo dice un sacerdote che un sacerdote dovrebbe la gioia più grande di un sacerdote è vedere una persona che si fa la comunione di per sé ma si fanno troppe comunioni fatte malamente dice se potessi cooperare a fare che tu e l'Altissimo vi deste la mano o vi abbracciaste in un ineffabile abbraccio di amore e di carità sentire queste cose ci faccia per esempio capire che cos'è la vera preghiera la vera preghiera basta leggere i testi dei maestri di spirito si nutre di queste cose cioè nella preghiera l'anima dinanzi nel segreto dinanzi al suo Dio si affondisce signore magari ti potessi prendere per mano o se ti trovassi da qualche parte ti potessi abbracciare la vera preghiera è l'amore se uno va a studiarsi santo Alfonso Maria del Liguorio San Francesco come si fa la meditazione adesso lo sintetizzo in due minuti ti metti alla presenza di Dio fai il segno della croce fai l'atto di dolore invoghi lo spirito santo leggi un testo ci cominci a pensare un po' e dopodiché passi al dialogo e dopodiché gli affetti che significa gli affetti e tutti i maestri di spirito dicono che tutto quello che hai fatto prima tende a questo perché la preghiera cerca l'unione e l'unione si realizza nell'amore e l'amore è una cosa molto passionale molto affettiva la gente non pensa che con Dio si deve avere un rapporto di questo genere ma è così ma io sono sicurissimo che la grande maggioranza delle persone non gli passa nemmeno per la anticamera del cervello e non hanno mai avuto una cosa di questo genere mai non hanno mai fatta Santa Teresa Davide che abbiamo festeggiato da qualche giorno dice sta attento quando nella preghiera ti parte il cuore lascia qualunque dice ma no ma stavo a pensare a questa cosa lascialo perdere perché tutto quello che si fa tanto è vero che la preghiera contemplativa è quella in cui non serve più mettersi a riflettere a pensare che il cuore parte subito quando si entra in contatto con con l'altissimo vabbè chiudiamo la parentesi proseguiamo con la lettura allora questa meravigliosa intervista è come una lotteria che avessi vinto si qualcosa del genere e non immagini quanto sia grande già che riguarda la ricchezza di idee convinzioni profonde operative che ti dona il nostro Dio ritorna questo termine no abbiamo già lo conosciamo già se ne saprai approfittare bene prima della tua morte ti apporteranno una gloria più importante del guadagno di molte migliaia di miliardi di dollari sebbene dovrei dire invece di dollari titoli speciali di credo perché vedono la tua memoria sensitiva che attualmente è disceso il valore del dollaro vedete che i santi fanno anche un pochino di ironia no chi di noi per esempio pensa che queste convinzioni che ti sto dando ti procureranno una gloria più importante in cielo se ne saprai approfittare quindi tradurle poi in opere e questo vale più che se guadagnassi migliaia molte migliaia di miliardi di dollari prova a pensarci tu che stai ascoltando in diretta o indifferita queste cose se ti dicessero ma che preferisci qualche buona conoscenza qualche buona dritta ecco che se la metterai in pratica ti procurerà una gloria maggiore in paradiso oppure ma non è uno scherzo trasferimento sul conto corrente bancario di 10.000 miliardi di euro subito rispondi e dire la verità oh 10.000 miliardi di euro ora sto facendo il diavolo tentatore 10.000 miliardi di euro cioè non ti basta tutta la vita per spendere 10.000 miliardi di euro cioè un jet privato costerà 500 milioni di euro non lo so ma l'ha detto una volta un mio amico pilota ha detto 80 500 milioni di euro ma forse costasse pure un miliardo di euro ma 10.000 miliardi che ti vuoi comprare 10.000 jet privati poi ti compri pure lo yacht un altro miliardo di euro ce ne restano 9.999 virgola 998 capito 10.000 miliardi di euro dico queste cose perché la gente non ci pensa 10.000 ma che ce fai ti vuoi comprare tutti gli yacht che te pare vuoi comprare tutti quanti gli jay piper che te pare tutte le ville al mare che te pare poi vatti tutte le settimane bianche nei posti più belli del mondo vattene in giro a visitare il mondo intero le hawai le seychelles che ne so tutto quello che ti viene le crociere che ne so che uno che ci può fare ma queste cose finiranno finiscono un giorno e poi a quanto vedo riprendo hai già ben esplorato la mia anima il mio cervello dice correggo titoli di credito perché il dollaro sta in calo forse stai percependo tutti i miei pensieri ricordi le domande con un certo timore no solo avverto ciò che liberamente vuoi che io conosca e non temere perché il signore è geloso custode del decoro e dell'intimità di ognuno dei suoi amati figli umani ovviamente lui conosce tutto assolutamente tutto ma a nessuno fa male ne intimorisce la sua minuziosa provvidenza si attua anche in cielo lui è molto attento a che noi beati non facciamo il minimo errore o indiscrezione quando ci comunichiamo tra di noi sia nell'interpenetrazione spirituale sia mediante il linguaggio lui era preoccupato che 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 tenere l'amata ci avesse una cognizione del suo interno come quello che c'ha Dio cioè anche qui altra provocazione sollecitazione per la nostra vita no tu ci credi sul serio che Dio conosce tutto assolutamente tutto questa convinzione pratico operativa è fondamentale per imparare una delle cose più importanti che dobbiamo imparare cioè che è agire davanti a lui secondo coscienza Dio vede anche le nostre intenzioni profondi i nostri pensieri profondi non lo possiamo ingannare possiamo ingannare gli uomini eppure raccontarci le balle a noi stessi ma davanti a Dio il segreto per imparare a fare sempre la cosa giusta è mettersi davanti a Dio e dire io farei questa cosa sotto gli occhi dell'altissimo dove del resto ci sto direi questa cosa penserei questa cosa allora vado avanti e quale forma di conversazione ti piace di più? a noi preferiamo il dialogo spirituale senza parole pronunciate così ci comprendiamo meglio il linguaggio terrestre è bello gradevole e meritorio ma talvolta un po' incerto risulterebbe insufficiente per esprimere il cumulo di nuove idee celesti inoltre esistendo in cielo tutte le lingue della terra riuscirebbe difficile soprattutto ai glorificati inferiori come me dominare tante lingue ti dirò uno dei nostri giochi celestico e beati eminenti domandiamo loro una nozione elevata ci rispondono con squisita precisione in una delle lingue che conosciamo ci meravigliamo della loro spiegazione e crediamo di averla capita molto bene ma poi si compenetrano con noi nella gradevolissima interpenetrazione intellettuale e mediante la direttevole unione senza confusione di anima con anima rimaniamo estatici nell'assaporare direttamente senza parole la stessa nozione che prima credevamo di avere capito l'interpenetrazione attenzione intellettuale cioè si fondono pur rimanendo distinte non confuse le anime si uniscono si interpenetrano e l'intelletto dell'anima superiore entra in contatto diretto con l'intelletto dell'anima inferiore e semplicemente gli rende noto quel concetto in questa maniera del tutto sublime e assolutamente dilettevole e inoltre chiarificante al centomila per cento vuoi dire obietta Riccardo che il migliore linguaggio non riesce alla perfetta comunicazione infatti non è capace neppure in cielo chi parla ha bisogno di selezionare i propri pensieri e esprimerli con chiarezza a quello che ascolta io so sempre a chiacchierare lo so abbastanza bene l'uditore partendo dalle parole che percepisce state attenti voi tenta di evocare la stessa cosa del suo interlocutore ma non ci riuscirà totalmente fin tanto che le loro anime non si compenetrano io tantissime volte parlo in continuazione troppo pure probabilmente e molte volte quando parlo dico io muo dico una cosa ma sta cosa non si può dire cioè dovrei essere capace di far vedere alle persone non soltanto quello che sto pensando ma come lo penso ma come lo percepiscono nel profondo e questo non è possibile quindi sono sicurissimo che la mia povera comunicazione è limitata e sarà percepita e recepita in modo inevitabilmente è limitata non ci si può fare niente concludetene l'amata quindi il linguaggio suggerisce spiega ma rare volte definisce e comunica con precisione c'è qualche spirito che c'è il dono della chiarezza e della capacità comunicativa quindi questo gap diciamo che si riduce ma c'è sempre un po' c'è sempre e riprende Riccardo è ammirabile il bacio spirituale nel cielo mi dispiace non sentire sensibilmente quello che mi stai dando davvero l'universo è complesso e grandioso quindi attenzione ci sono i baci spirituali che sono quelli che abbiamo appena visti quindi queste interpenetrazioni spirituali delle anime intellettuali risponde teneramata la creazione è infinita nelle sue cinque dimensioni le tre dimensioni dello spazio quindi le tre dimensioni dello spazio le conoscete la lunghezza la larghezza la profondità e in più il tempo e l'eternità creata che dopo vedremo la famosa quinta dimensione le cinque dimensioni quattro le conosciamo tutte quante lo spazio con le sue tre dimensioni tutti quanti sappiamo che lo spazio ha tre dimensioni i famosi film in 3D che adesso non vanno più di moda quindi si vede l'altezza la lunghezza e anche la profondità il tempo di questo e tutti quanti ci abbiamo una cognizione la novità è ciò che vedremo uno dei tratti caratteristici di questo grande racconto è la quinta dimensione ossia l'eternità creata o conoscere questa dimensione è qualcosa di meraviglioso che dopo vedremo infatti specifica e Riccardo dice ma perché noi viatori ignoriamo queste verità ma non sarebbe meglio che Dio ci permettesse di conoscere tutte le sue meraviglie create così come lo consente per le verità semplicemente scientifiche perché la sua divina rivelazione non comprende la descrizione dei paratempi i picosecondi dell'ineffabile come un spirito tre beati quella che gli ha appena rivelato e quella degli squisiti piaceri della vita futura puntate precedenti no? quindi Riccardo sta dicendo come mai alcune cose che mi hai detto tu cioè i paratempi i picosecondi l'ineffabile come un spirito tre beati quello di cui ho appena parlato e quella degli squisiti piaceri della vita futura che vi ricordate nelle puntate scorse no? i grandi cuochi che fanno cibi succulenti o la pallottolina che lei ha preparato per Riccardo con il cielo fanno delle sigarette dice ma perché queste cose Dio non ce le ha dette o non le ha dette a tutti? attenzione alla risposta perché Dio ha rivelato il necessario perché ogni uomo di buona volontà raggiunga la propria vita eterna che è la cosa che veramente vale ed è necessaria quindi nella rivelazione pubblica qui sta parlando della rivelazione pubblica Dio non scende in troppi dettagli e attenzione quando Dio non scende in troppi dettagli curiosare da noi stessi è peccato è peccato invece se attraverso una rivelazione privata Dio ritiene di dare qualche ulteriore dettaglio che non aggiunge nulla di sostanziale a quello che è necessario questo è sempre il rapporto tra le rivelazioni private e la rivelazione pubblica è semplicemente una delucidazione è una focalizzazione è un approfondimento appunto è un dettaglio è un accessorio è un optional che certamente allora se tu prendi la macchina che c'ha il cambio e il volante quella è la macchina cammina ma se c'ha il servosterzo gli alzacristalli elettrici parliamo degli optional obsoleti l'area condizionata ci stanno anche che ne so i fari che si accendono da soli i tergiristalli che si accendono da solo il cambio automatico l'autoparking è sempre una macchina però insomma è molto è molto più bello una macchina così no? ma è sempre una macchina non è che diventa una ruspa è una macchina è però insomma se viaggi in una macchina con tutti quanti i comfort è diverso che se tu pini 850 tu con la levetta no? sempre macchine sono però prosegue Tenanamata è lenta la pedagogia della parola rivelata a causa del maledetto peccato della rozzezza umana causata da tanta superbia egoismo inganno ed erotismo capiamo anche perché lenta la pedagogia della parola rivelata sia in pubblico che in privato guardate quante volte Tenanamata parla del maledetto peccato la causa di tutti i mali l'unica causa di tutti i mali Riccardo chiede tanto è funesto il peccato risposta tanto che se l'uomo fosse stato meno peccatore avremmo approfittato di più della redenzione e l'umanità in mezzo alle tribolazioni indispensabili per la prova che è la vita mortale nel regime di fede potrebbe intravedere meglio la stupenda felicità che la attende nel cielo e si sforzerebbe di raggiungerla mediante il compimento fedele e perseverante dei comandamenti e consigli del redentore considera che nessuno dà qualche cosa né in terra né in cielo se non nella misura che sa come sarà ricevuto il regalo che dà ed è molto triste constatare che l'umanità e il mondo in genere mai ha voluto prepararsi per conoscere e gustare un po' di più la divina rivelazione qui siamo interpellati tutti quanti chi è che conosce molte cose belle del Signore chi le cerca chi le cerca cosa ha detto Gesù nel Vangelo chi chiede ottiene chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto hai fame e sete di Dio beati quelli che hanno fame e sete della giustizia saranno saziati la giustizia è questo la giustizia è essere giusto significa essere conformati a ciò che Dio vuole essere santi padre sia santificato il tuo nome la prima petizione del padre nostro ma ti pare che Dio non la esodice ma a chi gliene importa qualcosa di queste cose a chi a pochi pochissimi proseguite nell'amata il mondo si è in quanto tale si è fermato a godersi sanamente o peccaminosamente il piacere e la soddisfazione che i sensi corporali producono immediatamente puoi anche avere quelli leciti ti vedi un bel film pulito e morale ti mangi un bel piatto di pasta ti intrattieni in casta intimità con tua moglie o con tuo marito tutta roba lecita non c'è peccato in queste cose ma sono sempre piacere sensibili anche se tu rimani nell'ambito del lecito è tutta qui la vita non c'è nient'altro è tutto qui però parliamo di quando si scade nell'illecito cioè la vita è semplicemente in ciò che ti trasmette il piacere e la soddisfazione dei sensi corporali ti senti una bella canzone di letto per l'udito un altro senso usi un buon profumo di letto per il naso ma ripeto è tutto qui proseguiti nella mata tributa culto di latria al vitello d'oro del benessere temporale culto di latria sapete che il culto di latria è un'espressione tecnica che significa il culto di adorazione dovuto a Dio solo adorazione ma l'adorazione che significa tu sei la cosa più importante di tutti come stiamo noi dinanzi a queste cose non di solo pane vivrà l'uomo detto Gesù nel Vangelo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio oggi è mercoledì chi fa il digiuno il mercoledì e il venerdì perché si fa il digiuno uno dei motivi principali introdotto da Gesù nel Nuovo Testamento non solo per espiare le colpe anche non solo per impetrare le grazie anche non solo per offrire una penitenza per la conversione dei peccatori anche oppure offro una penitenza per l'asconto dei peccati di mio padre e di mia madre che sono morti e gli offro sta penitenza per loro si possono fare tutte queste cose con il digiuno ma cosa dice Gesù quando gli dicono come va che i tuoi non digiunano possono gli invitati a nozze digiunare quando lo spose con loro verrà il giorno in cui gli sarà tolto lo sposo e allora digiuneranno che cos'è il digiuno è il contrario di questa cosa è dire a me signora mia dei piaceri dei sensi non me ne importa niente io manco mangio non soltanto i piaceri come dire peccaminosi ma pure quelli necessari perché mangiare è una cosa necessaria ma posso stare un giorno senza pure due pure tre pure una novena posso fare di digiuno gli eroi alla Mosè alla San Francesco si fanno 40 giorni come nostro Signore non sono morti per quello quindi vuol dire che si può resistere quanto siamo capaci noi di dire al Signore a me non mi importa io voglio conoscere a me mi interessano le cose tue non mangio non bevo non dormo qualunque cosa per niente non si può perché poi insomma di giorno comunque tempo limitato dormire non è che non può dormire la notte meglio specificare che dopo però un po' di meno sì per amore del Signore proseguo tenera amata poco ha cercato il Signore direttamente per se stesso per amore a Lui eppure Dio è sommamente degno di questo Dio lo si cerca per se stesso perché è il sommo bene diceva San Francesco l'unico bene il Signore Dio del Cielo e della Terra l'uomo ha pretesto di ricevere senza niente dare tutti stanno a presentare le liste a nostro Signore guai a Lui secondo gli esseri umani se non fa esattamente tutto quello che chiedono perché se Dio non fa tutto quello che gli dico io non me lo fido più chi ci fa più a messa chi ci fa più in chiesa chi prega più l'ho pregato non me l'ha data quella cosa e io non lo prego più questo pensano un sacco di esseri umani magari non stava pensando dici tu hai pregato e tu che cosa mi hai dato perché io dovessi darti una grazia padre Pio diceva che tutte quante le grazie si pagano non nel senso come dire materiale del termine no? che cosa hai fatto tu per ottenere quella grazia che basta che te prendi il nostro e dici dammi questo come se quello fosse che ne so al tuo servizio che lo puoi mandare a bacchetta o a nostro Signore l'uomo si è riempito di superiodeguismo e si rivolge a Dio soltanto per esigere spiegazioni o chiede oppure perché questo perché quest'altro perché quell'altro è noto che ci fu negli anni passati un noto cantautore che diceva ah qui dobbiamo mettere dobbiamo mettere Dio sul banco degli imputati e io gli devo gli devo mi deve rendere conto di una vita che ho vissuto e che io non ho capito mi spieghi mi dia spiegazioni Dio che deve dare spiegazioni a noi esseri umani casomai sarà Dio che ci chiederà tante spiegazioni da dare a noi e a suo tempo tante ce ne chiederà di spiegazioni più che legittime proseguete nell'amata certamente non sto affermando tutto questo come un rimprovero agli altri sia tu che io siamo stati superbi egoisti sensuali peccatori insomma ah ma se l'umanità prendesse sul serio il nostro Dio io sono sicura in nome dell'amore con cui l'altissimo la ama che il breve passaggio per la terra lo troverebbe più sopportabile più logico più semplice è più fruttuoso cioè noi passiamo in questa valle di lacrime camperemo in questa valle di lacrime tanto quanto conosciamo il Signore lo prendiamo sul serio ci apriamo al suo amore si campa meglio stando con lui molto meglio dice continuando non sto parlando di guadagni in pesos che è la moneta del Messico no e in centesimi ma di pace presente e di gloria futura e che cos'è la pace cristiana adesso sentite che è tanta roba la pace del Signore è la più grande felicità sulla terra a cui può aspirare un viatore tu ti senti profondamente in pace con te stesso con Dio con il prossimo se è possibile per quanto dipenda da voi diceva San Paolo vivete in pace con tutti e se qualcuno ce l'ha con te cerca di riconciliarti provaci e se qualcuno ti ha fatto del male perdonalo questa pace non è il mero equilibrio tra opposte fazioni non è l'assenza di guerra né la quiete della pigrizia né il silenzio degli oppressi né la tranquillità del cinico e nemmeno l'euforia instabile di questo nuovo umanesimo attenzione cristianoide filantropico ma senza vero amore di carità cristianesimo umanesimo cristianoide filantropico oggi questo è dominio pubblico sto parlando del 78 sono passati 45 anni non è che adesso sono cambiate le cose in meglio questo è diventato proprio adesso patrimonio universale comune l'euforia instabile del nuovo umanesimo cristianoide filantropico la pace del signore attenzione qui c'è proprio la definizione dei classici di santo di santo di santo maso è la tranquillità nata dall'ordine autenticamente cristiano cos'è ma dove nasce la pace la tranquillità dell'ordine si definisce e che significa la pace nasce dall'ordine tu stai al posto tuo osservi la legge di Dio lo ami cerchi di conoscerlo meglio lo conosci tendi all'ordine all'equilibrio di tutti quanti gli atti che hai equilibrio anche esteriore equilibrio anche nelle tue cose nella tua casa ordine ordine tranquillità nata dall'ordine autenticamente cristiano ancora la calma spirituale profonda che scaturisce dal dovere compiuto non a motivo di quell'umanesimo che mette in disparte l'altissimo ma per amore al nostro Dio San Paolo scrive tutto quello che fate fatelo di cuore come per il Signore e non per gli uomini allora oggi io mi sento profondamente tranquillo calma spirituale profonda ancora la pace è il silenzio interiore molto allegro di chi si riposa attivo e fiducioso sulla parola divina attenzione silenzio interiore quanto amiamo il silenzio il silenzio è una cosa bella non è una cosa brutta ovviamente si è riempito se io sto in silenzio e sto nel vuoto quella non è una cosa bella ma il silenzio di un santo è un silenzio pieno di tante belle cose è molto allegro attenzione questa è un'altra spia l'allegria l'allegria una persona che è piena di Dio ha il volto il tratto generalmente ilare sorridente e c'è anche c'è anche l'allegria scherza guardate che Dio scherza Dio scherza e fa i giochi non lo dice solo te l'amata è scritto nei libri di cielo di 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 gioca con i suoi figli ma tutto quanto il nostro desiderio che abbiamo noi di divertirci e ci divertiamo quando giochiamo no? ma da dove viene secondo voi? chi è che ce l'ha messo nel cuore? ma ce l'ha messo il nostro Signore è chiaro che qui su questa terra a causa del maledetto peccato molte volte dobbiamo moderarci un po' e qui purtroppo non stiamo non stiamo più solo per divertirci così sarebbe stato se non ci fosse stato il maledetto peccato sarebbe stato molto più divertente la vita terrena ma questo desiderio quindi il desiderio di divertirsi di giocare di di fare delle cose gradevoli divertenti da dove viene? e questo sarà quello che ci aspetta in paradiso questo qui su questa terra purtroppo non lo possiamo realizzare né con perfezione e nemmeno con come dire ininterrotta dedizione perché a causa del maledetto peccato noi qui abbiamo dei doveri da compiere abbiamo dei lavori da fare tante altre cose per cui i divertimenti e i piaceri sono regolati da una ben distinta virtù che è quella cardinale della temperanza però chi sta nella pace con la P maiuscola è molto allegro e si riposa attivo e fiducioso sulla parola divina attivo e fiducioso sulla parola divina bellissimo ma senza ritagli né adulterazioni dogmatiche non ci mancherebbe altro che la pace cristiana fosse come quella calma permonitrice che precede le tempeste senza ritagli né adulterazioni dogmatiche si riposa sulla parola di Dio ma non è capite questo è lì sta facendo un pochino di polemica su alcune tendenze teologiche contemporanee allora bisogna evidentemente capire un pochino di background un tempo anche nei seminari che cosa succede? si studiavano molti dogmi soprattutto attraverso l'ausilio di San Tommaso d'Aquino che è alla base dei grandi concili dogmatici della Chiesa e poi diciamo così la Sagra Scrittura c'erano dei corsi ma fondamentalmente si doveva uscire ben formati sui dogmi perché la cosa più importante che la missione della Chiesa deve compiere è di essere fedeli alla verità le elaborazioni dottrinali e dogmatiche dei concili o delle dichiarazioni non sono altro che una definizione quindi compiuta e blindata di una verità che deriva sempre come tutte dalla rivelazione pubblica cioè dalla parola di Dio allora cosa succede? che negli anni 60 ma già prima si riscopre questa importanza della parola di Dio e quindi parola di Dio parola di Dio la Bibbia la Bibbia la Bibbia la Bibbia e con quale variante però basta con tutti questi dogmi tutte le cose qua che la Chiesa ha fatto che il Sementato dice torniamo alla parola di Dio nutriamoci di quella e lasciamo perdere tutte quante queste cose discorso apparentemente sulla dente ma fuorviante perché i dogmi non si possono ritagliare né si possono adulterare guardate che non c'è bisogno di fare troppi commenti anche con i recentissimi fatti di attualità occorsi altro che adulterazioni dogmatiche ritagli qui stiamo andando parecchio oltre quindi perché qualora dovesse succedere vorrebbe dire che la pace cristiana questo è quello che dice tra le righe si trasformerebbe nella quieta prima della tempesta perché è chiaro che il nostro Signore non 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 permetterebbe una cosa di questo genere a lungo andare senza intervenire per il bene evidentemente delle anime no? Ora nell'attuale regime della fede il creatore desidera il progresso umano ma solo quello che si raggiunge mediante l'amore e di carità non lo pseudoprogresso raggiunto dal puro umanesimo guardate quante volte ricorre questo contrasto in questo brano di oggi tra l'umanesimo l'umanesimo cristianoide l'umanesimo filantropico il puro umanesimo quante volte contrapposto a che cosa? contrapposto all'amore di carità alla dimensione alla dimensione della fede non credo che sia il caso di spendere troppe parole a commentare questo passaggio e a comprenderne la straordinaria attualità eh oggi c'è tutta quanto un'operazione di pressione e a volte come dire già già entrata anche dentro la chiesa fondamentalmente di come dire evitare di parlare su quegli elementi per esempio propri della della nostra fede che sono li chiamano così oggi divisivi di questi no siccome dobbiamo cercare di entrare in contatto con le altre religioni con il mondo eccetera parliamo delle cose che ci uniscono questo approccio certamente è un approccio che da un punto di vista pastorale come aggancio con queste realtà ci può stare attenzione però non può non può finire tutto qui non possiamo fermarci qui non possiamo non possiamo non dire che Dio è uno e trino non è semplicemente uno è uno e trino Gesù Cristo è il figlio di Dio incarnato non è un uomo qualunque non possiamo stare adeguarci allo pseudo umanissimo non possiamo e non dobbiamo non esiste soltanto l'amore del prossimo esiste innanzitutto l'amore di Dio non esiste che tu fai volontariato sociale aiuti poi tutto quello che vuoi e poi se vai in chiesa fatta la comunione devi fare la comunione in stato di peccato mortale e se è buono manca stare due minuti con il nostro Signore per l'umanesimo filantropico non c'è problema non c'è tanto non sono queste le cose importanti l'importante è che tu sei impegnato socialmente e che fai qualcosa di bene per il prossimo l'umanesimo cristianoide filantropico è quello che prende il secondo comandamento il grande comandamento dell'amore e seppellisce il primo che è il comandamento il più grande di tutti perché quando Gesù gli hanno chiesto qual è il più grande di comandamento non l'ha detto ma era il prossimo tu come te stesso ha detto il primo è ascolta Israele il Signore il nostro Dio il Signore è uno solo amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutte le tue forze questo gli ha detto nostro nostro Signore agli scrivi e fa di sei e il secondo è simile al primo il secondo però io ho fatto tante catechesi omelia interventi noi stiamo nel tempo in cui il primo comandamento è completamente dimenticato si si bati per esempio perché nel comandamento dell'amore di Dio per esempio sono inclusi i primi tre comandamenti del decalogo mettere Dio al primo posto non avrai altro Dio lì fuori di me e chi lo fa? ma quanta gente entra in chiesa e neanche se fazione della croce chi è che entra in chiesa e ha imparato a fare la genufessione davanti al Santissimo Sacramento questi sono doveri gravi sono peccati gravi non farli quanta gente durante le messe sta in piedi dall'inizio alla fine sono buona in genocchia se manco durante la consagrazione quanta gente via fa la comunione se ne esce quanta gente la confessione se la mette sotto i piedi non si confessa va a farsi ruote psicologiche chiacchierate lo dite cento miliardi di volte queste cose qui sono tutti quanti i peccati contro l'amore di Dio chiese vuote trascuranza del progetto domenicale lavori e shopping di domeniche bestemmi riverenze puro umanissimo pseudo progresso il progresso cristiano dice tenere amato consiste nello sforzo continuo di ognuno di voi e di tutti per compiere integralmente la legge di nostro signor gesù cristo capito qual è il progresso questo vale per i progressisti i progressisti sono gli animati dall'umanesimo cristianoide filantropico che ormai è gettonatissimo ma il progresso cristiano che non è il progresso mondano consiste nello sforzo continuo di compiere integralmente la legge del signor nostro gesù cristiano integralmente integralisti ah integralisti cioè questi epiteti integralista estremista talebano esagerato ah oggi sono le più grandi offese che si possano fare e vengono rivolte esattamente a chi cerca di continuare a vivere il cristianesimo come è sempre stato quindi come santa fede divina e cattolica e non nella sua variante adulterata dal cristianesimo filantropico e umanistico oppure umanesimo cristianoide e filantropico come preferiamo e steneramata conclude il brano di oggi non avere paura del dolore della malattia e della morte è molto breve il passaggio del peregrinaggio di questo mondo nessuna paura sono tutte quante monete che ci porteranno in cielo ricorda che quando l'uomo si sdivinizza col peccato bellissima questa espressione immediatamente si animalizza con la concupiscenza e quando si perde la fede nel nostro Dio si comincia a credere nelle sciocchezze ma quanta gente che sta piena di sciocchezze proprio stupidaggini sciocchezze l'uomo sdivinizzato col peccato espressione altra espressione veramente un cult bellissima e tutti terrorizzati dal dolore dalla malattia e dalla morte ne sappiamo qualcosa noi questi nel sequestro nel 78 non avevano neanche la più pallida idea di quello che avremmo vissuto 50 anni dopo scarsi e l'abbiamo vissuto e non ci rifletteremo mai abbastanza e non ci torneremo mai abbastanza a rifletterci sopra chi è che ha vissuto quello che si è vissuto terrorizzato dal dolore dalla malattia e dalla morte non tutti hanno vissuto in questo modo non tutti si sono fatti prendere dal panico o hanno bevuto tutto quello che si diceva dalla mattina alla sera con i tamburi in continuazione da tutte le cose uno sta a vivere sotto la cappa del terrore assoluto che si tagliava con un coltello con atteggiamenti e con manifestazioni veramente che facevano se non c'era da piangere sarebbe stato da ridere per la ridicolaggine che si è raggiunta in certi estremi quindi oggi è stata una grande lezione teologica di Tenera Amata partito dalla spiegazione di che cos'è una rivelazione privata e di come si distingua da quella pubblica e poi è sfociata nella stigmatizzazione dell'umanesimo cristianoide e filantropico che non c'è niente a che fare con la fede bene amici ci vediamo se ti vuole alla prossima puntata tanto vi saluto con la mia benedizione Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga la mia benedizione la mia benedizione